Vigili urbani di Pietrammare, volevo dirvi che abbiamo costruito una veranda abusiva nella villetta... Ma non è che potete dire che l'avete costruita voi? È una telefonata anonima! Pronto? Vigili urbani di Pietrammare, volevo dirvi che il mio cognato si è fuori... Ma non puoi dire che è il tuo cognato! Se non si capisce che siete voi! Pronto? Vigili urbani di Pietrammare? Sì! Volevo dirvi che il sindaco si è costruito una veranda abusiva nella sua villetta al mare! E invece a noi ci ha chiuso il chiosco che abbiamo davanti al municipio! Pronto? Vigili urbani di Pietrammare? Questa è una telefonata anonima! Neanche noi lo sappiamo chi siamo!